Benvenuti a tutti nelle storie dell'orrore su Roblox Voglio tornare a casa! È troppo tardi per andarsene È troppo tardi per tornare indietro Iniziamo subito da una di queste storie Ogni stanza qua dentro corrisponde a una storia paurosa Che ci verrà raccontata qui su Roblox Posso sceglierla io così? Mi sento più a mio agio? No, la sceglierò io Ma perché? E mi assicurerò di scegliere quella che ti farà più paura Ma che cattivo! Allora, vediamo un po' Abbiamo il cane sorridente, la bambola carina Poi abbiamo il lupo mannaro Abbiamo... no, abbiamo Jeff the Killer Lo Slenderman Ben Drowned Bloody Mary Camp Nightmare E Anonymous Io ti direi iniziamo da Camp Nightmare E io volevo cominciare da questa quindi grazie Ok, anche perché l'ultima volta abbiamo giocato a quel campeggio degli orrori Quindi secondo me questa qui, che pure è un campeggio Dovrebbe essere adatta a noi Vieni, vieni Entra pure insieme Ok, permesso Allora, dobbiamo entrare nella stanza Una volta entrati nella stanza inizierà la paura di questa storia Voi ragazzi nei commenti dovete dirci Wow Beh, lo so, anch'io sono rimasto un attimo interdetto Ok Voi nei commenti dovete dirci se questa storia sarà paurosa oppure no E lo farete con un emoji Se non vi avrà fatto paura metterete un emoji sorridente Se invece vi avrà fatto paura un emoji spaurosa Ok, andiamo Dobbiamo leggere quello che dicono Siamo in un campeggio questa volta E siamo in mezzo alla foresta E c'è un gruppo di campeggiatori tipo dei Boy Scout Avviciniamoci pure allora E dicono Ah, ci divertiremo un botto qui dentro Non lo so Sì, ma sì, un sacco Sarà una figata Eh, sì, sì Andiamo avanti, Anna Andiamo avanti Loro sono dei campeggiatori ignari Eh, non sanno Ed è arrivata probabilmente No, è ancora giorno È sera probabilmente Ah, non mi sento bene Vorrei bere Ma sono un po' preoccupato Ho notato che Ti stai comportando in modo strano Bevi un po' Oh, bevi, bevi Si stanno ubriacando praticamente Vedi, questo si mangia un bel cosciotto di pollo Scusa, ma si stanno ubriacando con la sprite Con la sprite, però vabbè Lascia fare, lascia fare Vabbè, andiamo avanti Andiamo avanti Però è ancora giorno Il che è un pochino stra... Ecco Ecco Allora Ma qui la foresta è cambiata completamente comunque Eh, sì, perché nel buio le cose sembrano sempre più populose Tutto diventa scuro Giusto, giusto Ma la nostra lanterna Ma scusa, la nostra lanterna non fa più No, è che sono andati a dormire Adesso ti leggo quello che dicono Allora dice Non si capisce da quale bisogna iniziare a leggere Ecco Allora qui c'è uno che dorme Allora io dormirò vicino al nostro maestro Quindi era tipo una... Era una scola Una scuola, sì, sì, sì E infatti lui lui dice Spegnete il fuoco Andate a dormire Dormo qui vicino al maestro Non si sa mai Ah ah Sei proprio un fifone Sì Io spengo il fuoco Così tutti quanti potremmo dormire bene Al buio Grazie Sei il migliore Mmm Mmm Ok, quindi tutto è tranquillo Hanno passato una bella giornata Hanno mangiato pollo Hanno bevuto sprite Adesso vanno a nanna Sì, però ora sembra tutto normale Se non fosse che la foresta È diventata ancora più brutta, Anna Ancora più brutta Allora questo dorme Dorme Lui dorme Dormono tutti Dormono Eh quanto dormono Dormono proprio bene Anche il maestro Però alle 11.58 di notte Quindi quasi mezzanotte Qualcuno o qualcosa Sembra che si stia avvicinando silenziosamente Verso il campeggio Morca miseria, terribile E infatti vedi da qui Si sentono i rumori dei passi Che si avvicinano Io mi sto iniziando Anch'io mi sto Non lo so Sento un primitivo Porca miseria No vabbè No, aia, aia Qua ho preso un infarto io Che cos'era? Come che cos'era? Non ci sono entrata Allora adesso in avanti Vai avanti tu Perché io Io mi sono cagato Perché? Vai lì Vai lì No Eh ormai L'ha fatto pure a te? Sì Ok Ma adesso? Io non vedo mattoni rossi Oh che cos'è? Ma la deve smettere però Basta Allora Cos'è qui? Eh Che succede? Eh non lo so Quando mi spaurisco urlo Eh che cacchio? Perché io pensano Se tu fai paura al mostro Capito? Giusto Giusto Lui si spaventa E ti lascia in pace E' una gara che fa più Oh Mostro del cacchio Allora Eh beh Ancora L'hai fatto? Non lo so Mi scatta quando mi avvicino la porta Eh pure a me Ma dobbiamo entrare dentro o no? Eh secondo me Io non vedo mattoni rossi comunque No infatti Allora praticamente Non ve l'ho detto ragazzi Ma la storia finisce Quando troviamo un mattone rosso Quindi tecnicamente Non è finita O sì Eh ma non possiamo passare Sì sì Ora si può Ora si può Ecco infatti Mi sembrava strano Passa Anna Ok ci sono Allora dormono tutti ancora eh Oh no Tutti 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 dormono Sì ma io adesso non mi fido più Dopo quello che è successo poco fa Eh neanche io Infatti andrei avanti tu Allora dormono ancora tutti Però è arrivato sto tizio Che sembra una specie di vampiro E' proprio brutto E sussurra Oh Abbiamo un gruppo Di indifesi campeggiatori Nella mia foresta Dovrò liberarmi di loro Uno per notte E lui è il rapitore È il rapitore che arriva Alle tre del mattino Porca miseria Andiamo avanti Però stavolta Passa prima tu E dimmi se è pulito No Vai Bene Ok vieni Arrivo Porca miseria Non si vede niente No è buissimo Dormono tutti ancora Questi dormono E uno però Questo che era qui Poverino Oh no se l'è messo nel sacco Avete capito Se l'è rubato Se ne va con uno dei campeggiatori In un sacco Bye bye Il rapitore Se ne va con una borsa Con uno dei campeggiatori Lì dentro Ma poverino Sì Ora tocca a te No sempre tu devi andare avanti No per favore Per favore Forza Camminare Ok Non succederà più niente Sei tranquillo E questo è il mattino E il mattino E dicono Ma è successo qualcosa È strano Infatti dicono Olli molli Dov'è finito Jake Dov'è finito Jake Non abbiate paura Chiamo il 911 Che è il numero di emergenza E saranno qui in quattro giorni Benissimo Benissimo Proprio il tempo Di farvi rapire tutti e quattro Guarda a caso Che fortuna Ma porca miseria Vabbè però dice Forse è andato a fare la pipì Nel bosco Tornerà subito Non credo Non credo Non neanch'io penso Però infatti dicono Non era quello Che aveva paura Della foresta No Non sarebbe mai andato A vedere nella foresta Vado avanti io Tanto ora è giorno È di nuovo notte È di nuovo notte Sono le due del mattino Tutti dormono Ed eccolo qui Oh no Infatti ne ha già rapito un altro Ce ne mancano solo tre Sì Solo tre E la prossima sarai tu Anna E smettila Vai alla porta No Vai vai tranquilla Non credo Che ci rifara lo stesso spavento Due volte di fila Non sarebbe abbastanza furbo Da parte sua Ok No Jimmy è sparito Ce ne moriremo tutti Non abbiate paura Non è Non è il mostro E se lo fosse Se fosse lui il mostro Il maestro Beh effettivamente Alla faccia piuttosto incattivita Però dormiva pure lui Non abbiate paura Stiamo ancora bene La polizia arriverà in tre giorni E per stanotte Io resterò di guardia Ecco Sappiamo già chi è il prossimo Andiamo Andiamo Con pazienza E senza paura Ecco lui se ne è già rapito un altro Perfetto Ecco Ma Si è addormentato Si è addormentato Mentre faceva la guardia No Ma sei inaffidabile No Ora ne mancano solo due E quindi è questo qui Più il maestro Alle due del mattino Andiamo Anna Avanti tu Avanti tu Vai vai Ok Si sa mai quando è buio Ok Però Aspetta un attimo Non ho capito Perché Forse è la stessa persona Che fa più cose Ah si potrebbe essere Quindi dobbiamo Vedi c'è animation 1 Quindi si parte da qui Ok Allora ci dice Se non ce ne andiamo Prima di mezzanotte Saremo entrambi spacciati Ci troverà In qualsiasi posto Ci nascondiamo Se solo avessimo delle armi E poi Questa volta Entrambi resteremo svegli Durante la notte Ok Si addormentano tutte e due Quanto ci scommetti No no Vedrai che saranno abili Riusciranno a restare svegli Tutta la notte È la loro unica speranza Andiamo avanti Ok Infatti sono svegli Allora ci penso io A leggere Vai Qualcosa non va bene Qualcosa non va bene Sì Potrebbe restare Nelle tenebre A osservarci In questo momento Porca miseria Mamma mia Ok Qui è la seconda animazione Qui Anche qui Io guarderò intorno E lui Dice che andrà a vedere Nei boschi Se c'è qualcosa Andrà a fare la pipì Nel bosco Perché Falla lì Ma perché Cioè non importa Se ti vede il pistolino Fatela addosso Piuttosto Ma sì infatti Cioè la cosa più stupida Che potresti fare Manca un solo giorno Una sola notte Prima che arrivi alla polizia E lui infatti Guarda qui nel bosco Lui sta ascoltando E aspetta Per l'opportunità giusta Per rapirne uno Andiamo E lo sappiamo già Chi rapirà È quello che è andato A fare la pipì nel bosco Mi sa Per forza Vediamo un po' Per forza Sì l'ha rapito L'ha rapito Vedi vedi l'ha preso È apparso dal nulla Shhh Ditto E lo ha rapito E quello No E quell'altro invece è nel bosco Quindi non ha rapito Quello nel bosco Ha rapito l'altro Ha preso quello lì Rimasto nel campeggio Vai avanti tu Anna Vai avanti tu No Vai avanti ti dico Senza paura Ok Ormai ci siamo eh Ok Sono tornato Ma Dove è andato Danny Eh Dove è andato No anche Danny Eh ma quindi è rimasto Solo il maestro Praticamente Sì Alle due e mezza di notte Era troppo tardi Andiamo avanti Ora tocca a te Io mi sto cagando addosso Pure io Da uno a dieci Circa otto e qualcosa Quindi un bel po' Dove siamo ora? Ah è arrivata la polizia? No Ah sì No La polizia è bloccata nel traffico Sta arrivando però dice Ci stiamo avvicinando al campeggio Porca miseria Vai avanti tu Anna Vai avanti tu No Vai avanti tu ti dico Forza andiamo Ok Wow Eh che è successo? Oh mio dio Oddio E questo è il campeggio di prima Ha distrutto tutto Ha impalato il maestro Attento stai prendendo fuoco Oh cavolo Siete arrivati troppo tardi E io sì Ho preso fuoco Ma mi sono spento No E infatti è arrivata la polizia Stai attento al fuoco Eh che cavolo Eh sono morto No Ok maledetto fuoco Sono ritornato Attenta a non prendere fuoco tu adesso No no tranquillo Andiamo direttamente alla porta Volevo vedere che cosa dico Eh infatti dicono Siamo arrivati tardi Eh sì Eh sì Eh che cavolo Siete arrivati molto tardi Guarda che disa No vai avanti tu No tu Ti dico vai avanti tu No Eh io ho già subito abbastanza Vai vai Ok 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 Tranquilla Va benissimo E quindi E ora dove siamo E siamo arrivati alla fine Cioè era Il mattone rosso Si concludeva così Eh sì Eh vieni anche tu sul mattone rosso Cioè è terribile Quindi nessuno si è salvato Quindi non si è salvato nessuno No E addirittura ha dato fuoco al campeggio Sì ha distrutto tutto È stato un mostro terribile Però io ti dico Come storia Io le farei uno alla volta Cioè non ne farei un'altra adesso Perché non Ti curo? Eh non lo so Voi ragazzi che ne dite? Dobbiamo affrontare un'altra storia Cioè ce ne sono alcune Che mi tentano veramente tanto Tipo c'è Jeff the Killer Lo Slenderman Lo Slenderman no grazie Al massimo tipo Ben Drone Secondo me lo Slenderman Deve essere tanta roba Anna eh Andiamo Non lo so Oppure potremmo fermarci per questa volta E vederne una prossima Un altro video Ragazzi che cosa ne dite? Io aspetto di sapere Se a voi ha fatto abbastanza paura Da volerne vedere un prossimo episodio Secondo me non è stato per niente Male No infatti Aspettiamo quello che ci direte voi Per questa volta è tutto Lion e Anna Out Ciao